Violento scontro frontale tra due auto lungo la statale 17 allo svincolo per Miranda. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino nelle vicinanze di un noto locale della Movida Isernina. Il bilancio è di tre ragazzi feriti, due di Isernia, l'altro della provincia di Salerno. Tutti giovanissimi, dai 20 ai 27 anni, sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale veneziale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sanitari del 118 intervenuti subito dopo le segnalazioni. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare uno dei ragazzi rimasto incastrato tra le lamiere. Diverse le persone sulla strada accorse probabilmente dopo aver sentito l'impatto al termine della notte di festa. La dinamica dell'accaduto al vaglio dei carabinieri di Isernia che hanno svolto i rilievi. Nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte anche altre auto parcheggiate lungo il tratto della statale.